La Beata Vergine Maria ci ha detto che ricevere questo scapolare è un segno di salvezza, una protezione dai pericoli. Chiunque muoia con addosso questo scapolare non soffrirà il fuoco eterno. Benvenuti a Vivere la Vostra Fede. Sono padre Nicholas Brunner e oggi spiegherò la promessa dello scapolare fattaci dalla Beata Vergine Maria. Innanzitutto dobbiamo ricordare che durante l'apparizione del 13 ottobre 1917, alla fine del Miracolo del Sole, mentre la gente riunita alla cova d'Aeria osservava il sole piombare sulla terra, i tre fanciulli di Fatima, Lucia, Giacinta e Francesco, ebbero invece la visione della Madonna del Carmelo, la quale consegnò a Lucia uno scapolare. Come disse sempre Lucia a tutti coloro che glielo chiedevano, la Madonna desidera che tutti indossino lo scapolare. Ora, tutti noi sappiamo che durante le apparizioni di Fatima, la Madonna ci ha chiesto di recitare quotidianamente il Santo Rosario, ma nella sua ultima apparizione, la Beata Vergine ci ha detto che ella desidera che tutti indossino lo scapolare, perché dietro ad esso si cela una meravigliosa promessa. La Madonna è infatti promessa a chiunque lo indossi di portarlo in paradiso. Se ci pensate, è una promessa meravigliosa. Risale a 800 anni fa e più precisamente al 16 luglio 1251. In quell'anno il superiore generale dell'Ordine dei Carmelitani, un uomo di oltre 90 anni, era molto rattristato per i problemi che avevano colpito il suo ordine. Si era appena trasferito dalla Terra Santa, dove l'Ordine era stato fondato oltre 700 anni prima della venuta di Cristo dal profeta Elia in persona. Per vari motivi che adesso non sto a spiegare, San Simone Stock spostò la sede del suo ordine in Inghilterra, nella cittadina di Islesford, nella quale ho avuto la fortuna di vivere anch'io per qualche mese e diversi anni fa. Fu lì che la Madonna ha dette a San Simone Stock questa meravigliosa promessa. Il santo aveva chiesto l'intervento della Madonna per risolvere i problemi interni ed esterni dell'Ordine. Che cosa poteva fare per salvare i Carmelitani? La Madonna giunse in aiuto e fece la più meravigliosa delle sue promesse. Il giorno stesso in cui parlò dello scapolare a San Simone Stock, il superiore dell'Ordine, uno dei suoi sottoposti, ora non ricordo, salvò un uomo che stava morendo senza volersi confessare. Facendogli però indossare lo scapolare, quell'uomo riacquistò la speranza e ha consentì a confessarsi, morendo quindi in pace con il Signore. È doveroso ricordarci che i fanciulli di Fatima videro la Madonna indossare lo scapolare e dissero che ella voleva che tutti i suoi figli lo indossassero. Questo si ricollega alla promessa che la Madonna fece a San Domenico nel 1214, quando gli disse che un giorno, per mezzo del rosario e dello scapolare, io salverò il mondo. Non solo a Fatima, infatti, ma anche a Lourdes. La Madonna ha enfatizzato l'importanza dello scapolare. La sua ultima apparizione a Lourdes avvenne il 16 luglio 1858, a 600 anni esatti di distanza dall'apparizione a San Simone, rendendo quindi chiarissima l'importanza dello scapolare. Ebbene, che cos'è uno scapolare? Si tratta di un sacramentale composto da due pezzi di stoffa, potete vederli qui, attaccati assieme da due cordicelle che possono essere bianche o di un altro colore. Lo scapolare in sé per sé è fatto in genere di lana marrone, ma può essere anche nero. Viene indossato sopra le spalle, in questo modo, una parte davanti e una parte sulla schiena. Indossandolo ci poniamo direttamente sotto la protezione della Virgine Maria. Quando apparve a Fatima, infatti, la Madonna indossava gli abiti del Carmelo, e uno di questi è costituito da un mantello che ha un buco in mezzo e che si indossa fino a toccare le ginocchia sul davanti. Si tratta di un mantello le cui origini risalgono ai tempi del profeta Elia. Penso che tutti voi sappiate chi è Elia, uno dei più grandi profeti dell'Antico Testamento. Leggendo la Bibbia scoprirete che Elia e il suo successore Eliseo usavano i loro scapolari per compiere miracoli. Quando volle attraversare il fiume Giordano, Elia si tolse il mantello, che era lungo poco più di un metro, toccò le acque del fiume e ne fermò il corso. E quando Elia stava per ascendere in cielo e il suo successore Eliseo gli chiese di donargli il suo spirito profetico, Elia gli rispose, Se lascio indietro il mio manto, allora saprai che l'hai ricevuto. Quando il carro di fuoco portò via Elia da Eliseo, il suo scapolare, il suo mantello, rimase sulla terra, ed Eliseo lo prese, ereditando lo spirito profetico del grande Elia. Lo scapolare è una forma accorciata di quel mantello, anch'esso fatto di lana. Elia affondò l'ordine dei carmelitani sul Monte Carmelo. Ecco perché si chiama anche Monte della Madonna del Carmelo, perché fu lì che Elia pregò per ottenere un miracolo. La gente all'epoca, inizialmente, non gli prestò attenzione, proprio come accade al giorno d'oggi. La gente non ascoltava le parole di Elia, quindi il profeta pregò affinché una carestia si abbattesse sul popolo incredulo. Fu così che per tre anni e mezzo non cadde nemmeno una goccia di pioggia. Niente poteva crescere durante una tale carestia e ricchi e poveri condivisero lo stesso destino, la fame. Alla fine Elia riuscì ad attirare la loro attenzione e chiese quindi al Signore di far cessare la carestia. Si recò sul Monte Carmelo, il suo luogo preferito di preghiera, e lì pregò il Signore affinché mandasse copiosa la pioggia. Dopo aver pregato per un tempo che ritenne sufficiente, Elia mandò il suo assistente Gehazi giù dalla montagna per vedere se aveva piovuto. Gehazi tornò da Elia e gli disse, niente pioggia. Elia pregò una seconda volta, inviò Gehazi a controllare se aveva piovuto, ma anche in questo caso non era caduta una singola goccia di pioggia. E così anche la terza, la quarta, la quinta e la sesta volta, niente pioggia. Elia allora pregò una settima volta, e quando Gehazi scese dal monte, egli vide alzarsi dal mare una nuvola fatta a guisa di piede. La nuvola crebbe finché non divenne così grande da coprire con la sua estensione tutta la regione. Gehazi allora cominciò a correre, riferì a Elia che stava arrivando la pioggia, ma Elia già lo sapeva, perché anche egli aveva visto quell'enorme nuvola a guisa di piede. Il profeta aveva inoltre compreso che aveva una simile forma per un motivo ben preciso. Quale? Ebbene, il piede è il simbolo della Beata Vergine Maria, colei che schiaccerà la testa del serpente, la testa del demonio. Per questo Elia fondò una comunità di eremiti sul Monte Carmelo, i quali pregarono per secoli in preparazione della venuta di Nostro Signore Gesù Cristo e di Sua Madre Maria. Il risultato fu che gli eremiti carmelitani furono tra i primi ad essere battezzati nella Domenica di Pentecoste, quando lo Spirito Santo discese sulla Chiesa Cattolica. San Pietro, quel giorno, battezzò oltre 4.000 persone. L'ordine rimase sul Monte Carmelo fino al 1241, ma le guerre che colpirono la Terra Santa in quegli anni spinsero San Simone a spostare l'ordine dei carmelitani ad Eilessford, nel Kent, in Inghilterra. Fu qui che l'ordine cominciò ad avere problemi gravissimi di adattamento, essendo passati in una terra del tutto diversa dalla Terra Santa. La popolazione locale non li vedeva di buon occhio, perché avevano usanze strane e cose del genere, e fu allora che su invocazione del generale dell'ordine, San Simone, la Madonna gli apparve in visione. San Simone Stock aveva più di 90 anni e aveva vissuto per gran parte della sua vita su di un albero, da qui il suo soprannome. Era vissuto come un eremita lontano dalla gente, concentrandosi per quasi tutta la sua vita solo sul Signore. Per questo la sua preghiera fu così potente, e la Madonna gli apparve il 16 luglio 1251. Consegnandogli lo scapolare, le disse, «Ricevi, figlio dilettissimo, lo scapolare del tuo ordine, segno della mia fraterna amicizia, privilegio per te e per tutti i carmelitani. Coloro che moriranno rivestiti di questo scapolare non andranno nel fuoco dell'inferno. Esso è un segno di salvezza, protezione e sostegno nei pericoli di alleanza di pace per sempre. Con lo scapolare diventiamo membri della famiglia carmelitana, e se lo indosseremo dopo essere stati consacrati allo scapolare, in punto di morte, la Madonna non permetterà che le fiamme dell'inferno ci tocchino e ci porterà in Paradiso». È una promessa meravigliosa, tanto che San Claudio della Colombière, un grande sacerdote gesuita, affermò che tra le tante belle devozioni alla Madonna, quella dello scapolare è probabilmente la più amata dalla Beata Vergine. Ovviamente la Madonna ha sempre sottolineato l'importanza del Santo Rosario, quindi possiamo ben affermare che il Rosario e lo scapolare sono le più importanti devozioni alla Beata Vergine Maria. Molti miracoli sono associati a questa devozione, poiché la Madonna non promette solo la salvezza eterna, e dico solo, tra virgolette, ovviamente, perché si tratta di una promessa meravigliosa, ma ha anche affermato che esso sarà un segno di salvezza e di protezione dai pericoli. Lasciate che vi parli di alcuni di questi miracoli. Una nave, chiamata Re degli Oceani, stava percorrendo la rotta tra l'Inghilterra e l'Australia, e aveva appena doppiato il capo Horn, quando una grande tempesta cominciò a sbatterla di qua e di là, tanto che la nave sembrava dovesse affondare da un momento all'altro. Questo episodio avvenne nel 1838. A bordo c'era un ministro protestante, un certo signor Fisher, con tutta la sua famiglia. Si erano stretti in preghiera, chiedendo che la tempesta cessasse, ma non accadde nulla. Ad un certo punto, un marinaio di circa 18 anni, il cui nome era McAuliffe, salì sul ponte. Aveva con sé uno scapolare, lo estrasse dalle spalle, e con esso si fece il segno della croce in direzione del mare, per poi gettarlo tra i flutti. Immediatamente la tempesta cessò, e le onde smisero di spazzarvi la nave, tutte, eccetto una, l'ultima, la quale riportò a bordo proprio lo scapolare, che era stato lanciato in mare da quel marinaio, il quale, sorpreso, lo riprese e se lo rimise addosso. Fischer e la sua famiglia rimassero così impressionati da quell'episodio che una volta arrivati in Australia, si convertirono alla fede cattolica. Un altro episodio, più vicino a noi negli anni, ci dimostra la potenza della promessa dello scapolare. Avvenne nel 1957 in Germania, dove un incendio distrusse una serie di 22 billette. Ci valerò 5 ore per domarlo, e tutte le case di quella via vennero ridotte in cenere, tutte, tranne una, proprio nel mezzo di quel comprensorio. Il suo proprietario aveva appeso uno scapolare fuori dalla porta d'ingresso e da quella di servizio. Il fuoco lambì la casa, ma nulla danneggiò, perché la Madonna disse che esso sarebbe stato un segno di protezione dai pericoli. C'è poi un episodio accaduto durante la Seconda Guerra Mondiale, in Svizzera. Mentre un sacerdote stava dicendo messa in una chiesa, un uomo entrò e gli sparò un colpo di pistola alle spalle. Il sacerdote continuò in perterrito a recitare la messa, come se non fosse successo nulla, mentre i fedeli riuscirono a fermare e a disarmare quell'uomo. Tutti pensarono che avesse mancato il bersaglio, ma dopo la messa, quando l'abbate di quel monastero aiutò il sacerdote a togliersi di dosso i paramenti sacri, notò che egli aveva indosso uno scapolare. Ora, in genere, lo scapolare si indossa sotto le proprie vesti, ma quel giorno il sacerdote aveva fatto tardi e si era scordato a casa lo scapolare. Tornato in gran fretta a casa per prenderlo, se l'era semplicemente messo sopra la propria casacca. Una volta tolti i paramenti, l'abbate vide che avevano un piccolo foro sulla schiena. Era il proiettile che li aveva penetrati, ma che si era andato a schiacciare e fermare sullo scapolare. Lo scapolare di quel sacerdote aveva fermato un colpo di proiettile. Un mio conoscente mi ha raccontato una storia simile, avvenuta nel 1992 in Maryland. Mi raccontò che un giorno, mentre stava guidando la sua macchina in autostrada, qualcuno gli tirò un sasso che sfondò il parabrezza e gli spaccò gli occhiali che aveva nel taschino. Beh, non importa, tanto ora non mi servono, pensò tra sé e sé e continuò a guidare. Fu solo dopo essere arrivato a destinazione e aver ripreso quegli occhiali che quell'uomo si rese conto che a sfondare il parabrezza della sua macchina non era stato un sasso, ma un proiettile. Qualcuno gli aveva sparato e non se n'era accorto. Indovinate dove era posizionato il suo scapolare? Proprio così, esattamente dietro al taschino. La Madonna mantiene sempre le sue promesse. Lo scapolare è davvero una protezione contro i pericoli. Ovviamente non dobbiamo metterci in situazioni di pericolo da soli, ma indossarlo ci proteggerà. Questo mi riporta alla mente un altro episodio che mi accadde qualche anno fa a Port Hope, non lontano da Toronto. Mi recai in una scuola dove feci indossare lo scapolare a oltre 200 ragazzi. Ero stato invitato a parlare a quella scuola e portai con me molti rosari. Nel corso degli anni penso di aver investito circa 100.000 persone con altrettanti scapolari, ma quel giorno, se non erro, furono quasi 400 ed erano ragazzi delle scuole medie e superiori. D'ogni modo, quella sera avevo finito di parlare alle classi del messaggio di Fatima e una signora venne da me per raccontarmi cosa le era accaduto quel pomeriggio. Dopo la cerimonia di investitura dello scapolare di suo figlio, lo stavo reaccompagnando a casa in autostrada quando, durante una curva, la portiera posteriore si era aperta e suo figlio era caduto fuori dalla macchina in corsa. Potete immaginarvi lo spavento e l'angoscia di quella madre, la quale però, dopo essere scesa dalla macchina per soccorrerlo, scoprì che il suo figlio non si era fatto niente. Ovviamente, indossava ancora lo scapolare che gli avevo consacrato poche ore prima. L'investitura di una persona con lo scapolare del Carmelo consiste in una breve cerimonia che richiede soltanto un minuto, ma quando si tratta di un gruppo di persone il tempo richiesto è pari a quello necessario per apporlo sulle spalle di ciascun fedele. In sé per sé, la cerimonia consta di quattro preghiere distinte, alla fine delle quali si è ufficialmente investiti con lo scapolare. Una volta compiuta la cerimonia di investitura, essa sarà valida per tutta la vita e se il vostro scapolare dovesse rovinarsi, dovrete semplicemente sostituirlo con un altro che può essere benedetto nuovamente. La persona, comunque, non ha più bisogno della cerimonia di investitura. Una volta indossato lo scapolare, la Beata Vergine ci promette di assisterci e proteggerci dai pericoli e di salvarci dalle fiamme dell'inferno in punto di morte. Tuttavia, esiste una seconda promessa della Madonna di cui voglio parlarvi, legata allo scapolare del Carmelo. Circa 80 anni dopo il 1251, attorno al 1320, la Madonna apparve ad un sacerdote che sarebbe poi diventato Papa Giovanni XXII, il quale nel 1322 promulgò una bolla pontificia, cioè un documento ufficiale della Chiesa, della quale annunciò ai fedeli una promessa da lui ricevuta dalla Madonna, secondo la quale, a tutti coloro che indossano con devozione lo scapolare durante la propria vita, conducendo una vita retta e pura e recitando il piccolo ufficio, che oggi è possibile trasformare nella recita quotidiana del Rosario, la Beata Vergine offre la possibilità di entrare in Paradiso il sabato successivo alla morte. In altre parole, coloro che otterranno questo privilegio, chiamato privilegio sabatino, rimarranno in purgatorio al massimo una settimana. Ora, molti cattolici si sono dimenticate che le fiamme e le punizioni del purgatorio sono simili comunque a quelle dell'inferno, ad eccezione del fatto che l'anima sa di essere in purgatorio solo temporaneamente, mentre l'inferno è per sempre. Chi è in purgatorio sa che alla fine verrà purificato e potrà accedere in cielo. E' infatti quello il compito del purgatorio, purificare l'anima dai peccati che non sono stati purificati mentre si era in vita. Chi pensa che basta confessarsi e poi ricominciare a peccare commette uno sbaglio essiziale. Non basta andare a confessarsi se non si ha un fermo proposito di non peccare più in avvenire. Non dobbiamo scordarci, inoltre, che anche se veniamo assolti in terra per i nostri peccati, dobbiamo pur sempre subire un castigo in cielo. Proprio come un uomo che ha commesso una rapina in banca, egli andrà in prigione per qualche tempo e dovrà pagare per il crimine da lui compiuto. Lo ha spiegato bene padre Pio. Un giorno, rivolgendosi ad un suo fratello Cappuccino, gli disse «Oggi tuo padre è andato in cielo». E quel suo confratello, quel frate Cappuccino, rispose «Sono molto lieto di saperlo, padre Pio, ma lei sa che mio padre è morto 28 anni fa. Era un bravo uomo. Come mai ci ha messo così tanto?» E padre Pio gli disse «Figlio mio, avanti a Dio, tutto si paga». Se consideriamo che la Madonna ci ha promesso di farci uscire dal purgatorio la settimana successiva alla morte, è evidente che si tratta di una promessa eccezionale ed è molto facile da ottenere. Possiamo inviarvi, se volete, un opuscolo contenente la spiegazione delle meravigliose promesse legate allo scapolare. «Chiamateci e ve lo invieremo gratuitamente». È una grande devozione ed è stata incoraggiata dalla Madonna di Fatima in persona. Tra l'altro, indossare lo scapolare significa ottenere una grazia speciale che anch'io ho avuto modo di sperimentare, dato che lo indosso ininterrottamente da 40 anni, e cioè dal 1965. Questa grazia è la recita quotidiana del rosario. Se indossate lo scapolare, troverete più facile recitare tutti i giorni il santo rosario. Sin da quando veni investito dello scapolare, come ho detto, ce l'ho sin dal 1965, mi sono ritrovato a recitare il rosario tutti i giorni, e sin da allora è diventato un'abitudine che non ho mai perso, tanto che in 40 anni, i giorni in cui ho saltato per cause di forza maggiore la recita del rosario, si contano sulle dita di una mano. Anche altri me l'hanno confermato, se indosserete lo scapolare, troverete più facile recitare tutti i giorni il santo rosario. D'altronde, la Madonna lo aveva rivelato a San Domenico, un giorno, per mezzo del rosario e dello scapolare, io salverò il mondo. Lo scapolare mi ha indossato tutto il giorno, sette giorni a settimana, 365 giorni l'anno. In tutta la mia vita, da quando lo indosso, penso che in totale non l'abbia non indossato per più di mezz'ora. Quando si consuma, tutto ciò che dovete fare è sostituirlo con un altro. Tenetene sempre uno pronto di scorta, quando viaggiate, perché non si sa mai quando quello che avete indosso può rompersi o staccarsi. È ovviamente un sacramentale, e in quanto tale è un oggetto benedetto, di cui dovete avere la massima cura. Una volta rotto, non dovete buttarlo nella spazzatura come se fosse un rifiuto, ma bruciarlo o seppellirlo. Se si è consumato, toglietelo e rimpiazzatelo con un altro, ma trattatelo sempre con il massimo rispetto. Insomma, non dovreste mai stare senza il vostro scapolare. È un segno di salvezza, una protezione dai pericoli ed un impegno di pace. Ogni volta che vi trovate in difficoltà, prendendo in mano il vostro scapolare, vi ricorderete che la Madonna ha promesso di portarvi in paradiso, se le sarete fedeli. Indossandolo, vi state ponendo sotto la sua protezione. Il manto originale, di cui questo sacramentale è la versione ridotta, è l'indumento indossato dai carmelitani, e uno dei suoi membri più famosi è stata Teresa de Lisieux. Nelle sue raffigurazioni, come tutti i carmelitani, possiamo vederla indossare il mantello che le arriva fino al ginocchio. Sia San Luigi de Montfort, sia Sant'Agostino, ci insegnano che in questa vita la Beata Vergine Maria è anche nostra madre. Noi nasciamo in Maria e quindi, da un punto di vista mistico, così come cresciamo, veniamo battezzati e moriamo in nome di Gesù Cristo. Allo stesso tempo, siamo in Cristo e nel grembo della Beata Vergine Maria. Indossando il suo scapolare, è come se ella ci portasse in grembo, perché lo scapolare di Maria è un segno distintivo dei suoi figli più devoti. È un segno che indica che siamo sotto il suo manto protettivo, appunto nel suo grembo. Indossandolo, fate sapere a Maria che siete suoi figli devoti e che ricorrete a lei speranzosi. Con lo scapolare vi consacrerete alla Beata Vergine Maria ed esso è un simbolo di questa vostra consacrazione personale. È questo il significato più profondo di tale devozione. La Madonna ha fatto delle promesse meravigliose e molto spesso pensiamo a lei anche in modo inconscio, ma a maggior ragione indossandolo scapolare vi metterete sotto la sua protezione e potete star certi che ella prende molto a cuore i suoi figli devoti. Sin dal 1280, cioè ormai da più di 700 anni, hanno indossato lo scapolare della Madonna del Carmelo e hanno sempre appoggiato nel corso dei secoli questa meravigliosa devozione. Rispetto alla visione che ebbe Elia quando fondò l'ordine sul Monte Carmelo, San Buonaventura disse che esistono due motivi ulteriori per cui quella nuvola simboleggiava la Beata Vergine Maria. Secondo San Buonaventura, se sappiamo leggerlo con attenzione, scopriremo che ogni pagina dell'Antico Testamento parla della Beata Vergine. Ad esempio, la nuvola di Elia proveniva dal mare e non vera alcun sale in essa. San Buonaventura spiegò questo passo nel senso che l'acqua salata rappresenta l'umanità peccaminosa, mentre l'acqua fresca e pura rappresenta l'Immacolata Concezione, cioè la Madonna, l'unico essere umano a non aver mai peccato e ad essere stato concepito senza peccato originale. Fu da quella singola nuvola che ricoprì tutta la terra di Israele che venne la pioggia, un segno, un simbolo del fatto che la Beata Vergine Maria è la mediatrice di tutte le grazie. Come ci insegna Papa Leone XII, tutte le grazie discendono su di noi da Dio Padre, per mezzo della sacra umanità di Gesù Cristo attraverso le mani della Beata Vergine Maria. Non v'è grazia che discenda su di noi che non sia prima passata attraverso le mani della Madonna. Ella è mediatrice di tutte le grazie, come simboleggiato da quella singola nuvola che avviluppò la terra e dalla quale scese la pioggia. Oltre al fatto che tanti papi nel corso dei secoli hanno appoggiato e sostenuto questa devozione, la Madonna in persona è giunta più volte per ricordarci l'importanza dello scapolare, come nelle apparizioni di Lourdes e Fatima, così come nei tanti miracoli ad esso attribuiti. A questo proposito, voglio raccontarvi altri miracoli attribuiti allo scapolare di Maria Santissima. Uno di questi è accaduto nel Midwest degli Stati Uniti. Un ragazzino di nove anni si era fermato ad una pompa di benzina per gonfiare la gomma della sua bicicletta quando l'intera stazione di servizio saltò in aria a causa di un cortocircuito. Il bambino fu travolto dalle fiamme e tutti i suoi vestiti furono bruciati, tutti, tranne lo scapolare che indossava sotto di essi. Il bambino non riportò alcuna ostione. Ci sono molti altri miracoli legati allo scapolare e vi invito a chiamarci e a richiederci l'opuscolo sullo scapolare dove tutti questi miracoli vengono riportati con dovizia di particolari. Ricordatevi comunque che lo scapolare è una devozione approvata e sostenuta dalla Chiesa. Fu Benedetto XV che all'inizio del XX secolo dette un'indulgenza di 500 giorni per chi baciava lo scapolare. 500 giorni di indulgenza vogliono dire 500 giorni in meno da passare in purgatorio. In altre parole se dovete passare 500 giorni in purgatorio per i peccati che avete commesso grazie solo al fatto di aver baciato lo scapolare Dio vi farà passare 500 giorni in meno in purgatorio. Questo dimostra il grande sostegno che i papi hanno dato alla devozione dello scapolare. Papa Gregorio XIII ad esempio che convocò il concilio di Lione anche lui morì con l'indosso lo scapolare e 500 anni dopo quando venne riesumato il suo corpo non fu ritrovato nulla nella tomba ad eccezione proprio dello scapolare. La stessa cosa accadde a Sant'Alfonso Liguori il quale morì attorno al 1791 e anche egli fu sepolto con lo scapolare quando riesumarono il suo corpo molti anni dopo scoprirono che il suo scapolare era rimasto intatto. Lo stesso accadde anche a Giovanni Bosco morto nel 1888 alla riesumazione del suo corpo si scoprì che tutti i suoi vestiti si erano disintegrati ad eccezione dello scapolare. la Madonna ci ha fatto comprendere più volte che indossare lo scapolare è davvero importante e vuole che tutti i suoi figli lo indossino. Chiamateci o scriveteci ai numeri che trovate in sovrimpressione e riceverete uno scapolare del Carmelo insieme all'opuscolo sulle meravigliose promesse della Madonna ovviamente in modo assolutamente e doverosamente gratuito. Qualsiasi sacerdote può investirvi in esso e se non conosce le preghiere può leggerle nell'opuscolo che vi invieremo il sacerdote dovrà investirvi allo scapolare pronunciando le parole in latino o in italiano il tutto non durerà più di un minuto a persona ricordatevi quindi ricordatevi quindi sempre di indossare il vostro scapolare e di recitare il rosario tutti i giorni ma anche il fatto che in mano vostra queste devozioni hanno un potere eccezionale padre Amort racconta che durante un esorcismo il diavolo gli ha rivelato che ogni Ave Maria che recitiamo è come un calcio in testa sferrato al maligno se tutti lo indossassero se tutti recitassero il rosario il nostro sarebbe un mondo decisamente migliore rivolgiamo quindi a maggior ragione le nostre preghiere alla Beata Vergine indossiamo il suo scapolare e recitiamo il suo rosario come ci ha chiesto a Fatima e ricordiamoci sempre che la Madonna ci ama e vuole portarci in paradiso grazie per essere stati con noi e che Dio vi benedica arrivederci grazie a tutti La Madonna di Fatima ha detto «Se le mie richieste non verranno esaudite, la Russia diffonderà i suoi orrori in tutto il mondo, provocando guerre e persecuzioni contro la Chiesa. I buoni saranno martirizzati, il Santo Padre dovrà soffrire molto, varie nazioni saranno annientate». Grazie per la visione!